Musica Offese sessiste, De Caro Denuncia, depositato oggi un atto formale per individuale e responsabile dell'oltraggio alla consigliera Melini a tutto il consiglio comunale. La procura è a secco, negli uffici l'acqua manca da due giorni, il procuratore Volpi ha scritto alla prefettura per chiedere un servizio temporaneo con cisterne e forse un guasto all'impianto idrico. Terapia per la sanità malata, lunghe liste d'attesa, viaggi della speranza e conti che non tornano sotto accusa nell'audizione con il governatore Emiliano, ne parliamo nel nostro focus. Un canestro contro le disabilità, il nostro live dal Palala Forgia per l'iniziativa organizzata dall'associazione Basket in Carrozzina, Cabari 2003. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione della nostra redazione. Allora, partiamo subito dalle offese sessiste alla consigliera Melini e all'intero consiglio comunale. Il sindaco Antonio De Caro oggi ha presentato formale denuncia in procura, ma intanto oggi, dopo l'annuncio di volersi sottoporre volontariamente alla perizia grafica per individuare il responsabile, improvvisamente c'è stato un cambio di volontà e questo ha creato un po' di causa a Palazzo di Città. Guardiamo. La stampa viene convocata per assistere al sorteggio di un esperto in perizie grafiche, ma assiste all'annuncio di un cambio di volontà. Preso atto della denuncia formalizzata in procura dalla consigliera Melini, attendiamo che sia la magistratura a mettere fine a questa incresciosa storia, individuando il responsabile dell'insulto sessista. Vale tutto il contrario di tutto a Palazzo di Città, che ancora una volta offre di sé un'immagine poco edificante. Maggioranza contro maggioranza, opposizione contro opposizione, persino quando l'invito alla conferenza stampa, arriva a nome di tutti. Subito dopo l'annuncio della rinuncia alla perizia calligrafica, cui consiglieri si sarebbero dovuti sottoporre, volontariamente per accelerare i tempi, il caos. Da una parte il caprogruppo PD Marco Bronzini dichiara che non parlerà più dell'argomento se non in presenza di un magistrato. Dall'altra Francesco Giannuzzi, de caro sindaco, prepara bigliettini di fortuna per procedere comunque al sorteggio. Stessa spaccatura nelle opposizioni. Michele Piccaro e Fabio Romito da una parte propendono per la scelta di un esperto, dall'altra il Movimento 5 Stelle si affida ai giudici. E mentre metà dei presenti esce dalla sala in preda all'ira per l'evidente spaccatura, i pochi rimasti procedono comunque all'estrazione. Spetta ad una giornalista tirare a sorte il perito è scelto tra i nomi indicati nell'elenco dei CTU. Ma la domanda a questo punto è che Valenza ha questa scelta se in pochissimi viene aderito e perché ieri è stata mandata una nota a nome di tutti i consiglieri se in tanti evidentemente erano contrari? È vero che è uno solo, colui o colei che ha commesso questo illecito, ma mi sembra che tutti quanti siamo tutti sempre molto solidali, tutti quanti pronti a estrarre questo nominativo. Poi alla fine sono rimasti in tre forse estrarre il nominativo e fra quei tre c'è anche chi stamattina o un attimo prima aveva cambiato idea e non voleva estrarre il nominativo. Insomma, penso che i baresi stiano vedendo in queste ultime ore e giornate una pagina veramente triste dell'amministrazione comunale. E su quello che sta accadendo abbiamo chiesto un parere al Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Dirella, da cui è partito l'appello rivolto ai consiglieri di sottoporsi a perizia grafica. Sentiamo come ci ha risposto. Presidente, avrebbe mai immaginato che dal suo appello rivolto ai consiglieri comunali di sottoporsi volontariamente ad una perizia grafica sarebbe nato tutto questo? Naturalmente non posso esprimere alcun tipo di giudizio sulla opinione dei consiglieri comunali. Sono assolutamente certo che l'iniziativa di sottoporsi volontariamente a perizia caligrafica avrebbe dato, restituito dignità alla politica e non avrebbe delegato la risoluzione di questo problema alla magistratura. Insisto, secondo lei l'immagine del Consiglio dopo la conferenza stampata di questa mattina ne esce ancora più compromessa? Io non solo per un dovere giuridico ma anche morale non ho mai espresso e non comincerò oggi ad esprimere giudizi sul Consiglio Comunale o su singoli consiglieri. Quindi ribadisco che questo è un momento di grave difficoltà, l'immagine del Consiglio Comunale di Bari è sporcata e abbiamo un interesse, e affermarlo è quasi banale, a far sì che immediatamente si individui il colpevole affinché tutti gli altri e il Consiglio Comunale nella sua interessa possa finalmente riprendere con serenità i propri lavori. Il palagiustizio di Bari che ospita gli uffici e le aule del Tribunale della Procura è a secco da due giorni per cause tuttora in corso di accertamento. Da venerdì scorso rubinetti e scarichi funzionano ad intermittenza ma da ieri l'acqua manca del tutto. Il procuratore Giuseppe Volpi ha scritto alla Prefettura chiedendo che il servizio venga temporaneamente garantito da autocisterne, le quali tuttavia ancora non sono arrivate in via Nazarianza. Dall'acquedotto pugliese fanno sapere che a seguito della segnalazione è stato fatto in mattinata un sopralluogo che ha accertato la regolare erogazione di acqua al contatore che serve il palazzo. Secondo i tecnici quindi il guasto riguarda il tratto che collega il contatore all'impianto idrico del palagiustizia oppure lo stesso sistema idrico interno. I quattro piani della Procura e del Tribunale Penale sono mediamente frequentati ogni giorno da circa 2000 persone fra magistrati, avvocati, cancellieri e utenti che da almeno 48 ore non possono soffrire dei servizi igienici. Telebari denuncia e il Comune interviene. Sono state ripristinate le recinzioni, i rimossi tondini sporgenti che mettevano a rischio l'incolumità dei passanti di Via L'Europa. Dopo la diretta di questa mattina del nostro B&G dedicato al quartiere San Paolo è stato infatti messo in sicurezza il cantiere dove sorgerà un nuovo parcheggio da 20 posti con annessa aria verde e giostrine. L'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso ha dato seguito alla segnalazione dei cittadini intervenuti nella diretta. C'è poco da indugiare sulla sicurezza degli spazi pubblici, soprattutto quando ci sono dei lavori in corso affermato in trasmissione disporremo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi del cantiere. E infatti l'intervento è giunto puntuale, adesso si attende il completamento dell'opera i cui lavori sono stati sospesi per una variazione al progetto originario. Gli operai dovrebbero tornare al lavoro dal mese di dicembre con consegna prevista entro febbraio 2018. Questo pomeriggio nell'Aula Magna Aldomoro della Facoltà di Giurisprudenza si è parlato di pensioni e riforme previdenziali ospite dell'evento organizzato dall'Associazione Universo Studenti l'economista ed ex ministro del Lavoro Elsa Fornero. Elsa Fornero questo pomeriggio ospite dell'Università degli Studi di Bari. All'indomani del tavolo di confronto tra governo e sindacati sullo scottante tema delle pensioni l'ex ministro traccia per la platea degli studenti una riflessione circa l'ultima proposta di governo sul sistema pensionistico. Mi sembra che adesso la discussione tra governo e parti sociali si sia molto intrisa di elementi politici e la vicinanza delle elezioni rende tutto più complicato. È chiaro, mi pare almeno da parte di qualche sindacato, l'uso politico della trattativa. Spero che il governo abbia la capacità, e mi sembra di vedere le premesse, di mettere dei punti fermi perché è in ballo esattamente il futuro dei nostri giovani. Torna a parlare delle sue scelte passate l'ex ministro e tenta un autoesame sulla sua contestatissima vecchia riforma. Il frutto, dice, di una situazione di emergenza alla quale serviva una risposta immediata. Per quanto mi si possa accusare di tante cose, non sono responsabile di tutto. La nostra scelta era stata di tenere un articolo 18 a difendere il lavoratore contro certi possibili licenziamenti che, senza arrivare veramente alla discriminazione, sono però non motivati dal punto di vista né disciplinare né economico. Non è facile realizzare una riforma in calza. Il problema delle riforme è come realizzarle per far contenti tutti. Ora però è importante comprendere che le riforme sono come un investimento. Bisogna rinunciare a qualcosa oggi per avere qualcosa in più domani, conclude. Tanti giovani però sembrano averlo perso quel domani. Il treno per il futuro corre, ma a tanti ragazzi manca il biglietto. Con loro solo un bagaglio pesante, fatto di dubbi e incertezze. Taxi in protesta anche a Bari, dove una settantina di veicoli da questa mattina alle 8 sono parcheggiati davanti alla prefettura e resteranno fino a tarda sera. I tassisti di Bari dicono no. È scritto su alcuni cartelli esposti sui taxi. Lo sciopero che interessa oggi tutte le principali città italiane riguarda le misure del governo sulla liberalizzazione e deregolamentazione del servizio pubblico dei taxi. Per tutta la durata del fermo saranno comunque garantiti servizi essenziali, emergenze sanitarie, disabili e anziani nei 5 parcheggi della città, aeroporto, stazione, politico, o modeo e massari, da dove eccezionalmente le corse saranno gratuite. Negli stessi posteggi si terranno presidi informatici con distribuzione di volantine ai cittadini da parte dei tassisti. Parliamo di sanità, guardie mediche pediatriche per curare i piccoli pazienti anche nei fine settimana. E la richiesta lanciata tramite una petizione online da un'associazione di mamme, un servizio per la verità già esistente, scusate, ma non ancora entrato in funzione. Sentiamo. Quasi 5.000 firme raccolte in poche ore. Una petizione online per avere una guardia medica pediatrica gratuita H24. A lanciare la proposta è l'associazione Come nasce una mamma. Che succede quando i nostri bambini si ammalano il weekend o durante le festività? Scrive la responsabile Benedetta Maffia sul portale change.org. Il primo tentativo è quello di chiamare il proprio pediatra, che purtroppo il più delle volte non è reperibile. Poi si prova con la guardia medica, che però non è pediatrica, e spesso alza le mani quando si trova a dover prescrivere farmaci a un bambino o addirittura a un neonato. Non resta che portare il bimbo al pronto soccorso o ad un pediatra a pagamento, con tutte le conseguenze che questo comporta. Eppure lo scorso febbraio una soluzione quantomeno parziale era stata trovata con l'istituzione del servizio SCAP per tutte le ASL pugliesi. Un ambulatorio pediatrico da ubicare nei pressi dei pronto soccorso per i codici verdi e bianchi dei più piccoli, attivo per 12 ore nei giorni festivi e prefestivi. Una soluzione peraltro già testata con risultati straordinari nella BAT. Peccato che ad oggi solo Brindisi abbia provveduto all'attivazione, oltre alla SCAP già operativa dell'ASL di Barletta Andri e Trani. L'ASL di Bari ha già individuato i medici tra i pediatri di libera scelta per portare avanti il servizio e ha di recente fissato come date il primo dicembre. L'impressione però è che dopo i numerosi rinvii già avvenuti, dopo dieci mesi ci sarà ancora da aspettare. E siamo all'inchiesta negli appalti in sanità, corruzione prescritta per Tarantini. Il Tribunale di Bari ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati di corruzione, concussione e turbativa d'asta contestati ai fratelli Gianpaolo e Claudio Tarantini e all'ex primario di neurochirurgia del Policinico di Bari, Pasqualino Ciappetta, relativi alle presunte gare truccate per forniture di attrezzature chirurgiche tra il 2006 e il 2009. I giudici hanno condannato il medico a un anno e sei mesi di reclusione per l'unico reato non ancora prescritto, la presunta truffa ai danni del Policlinico. Nonostante avesse un contratto in esclusiva con l'azienda ospedaliera barese, Ciappetta operava infatti nei fine settimana nella clinica Villa del Rosario a Roma. Per questo i giudici hanno disposto anche il sequestro di circa 70 mila euro pari all'ingiusto profitto e hanno condannato Ciappetta al risarcimento danni nei confronti delle parti civili costituite Policlinico Università degli Studi di Bari e Regione Puglia. Bene, siamo al nostro live, oggi in diretta dalla Pallaforgia per l'iniziativa dedicata ai disabili organizzata dall'Associazione Basket in Carrozzina a Ciappari 2003. L'inviata di questa sera per noi è Barbara Cirillo. Buonasera Barbara. Buonasera Alessandra, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo al Pallaforgia per una sessione di allenamento davvero molto molto speciale. Ne parliamo insieme al Presidente dell'Associazione H Bari 2003, Gianni Romito. Innanzitutto, buonasera, grazie per averci invitato in una delle tante attività che l'Associazione svolge. È un'attività sportiva, innanzitutto, ma che ha delle finalità ben precise e molto molto importanti. Buonasera a tutti, ringrazio... Ciao Alessandra, ringrazio voi tutti, Telebari in particolar modo, la famiglia Mazzitelli innanzitutto. E questa è un'attività unica in Italia, rivolta ai ragazzi con disabilità intellettiva mentale, è un'attività di piscomotricità appunto adattata col gioco della pallacanestro. Ecco, attraverso questa attività, attraverso la palla, attraverso anche gli insegnamenti dei tanti tutor che li stanno seguendo in questo momento, quali sono, diciamo, i vantaggi? Il vantaggio è di inserire in questo contesto i ragazzi con disabilità d'autismo, in particolar modo oggi ne abbiamo sette ragazzi presenti in questa sessione di allenamento ed è un dato importante, non esistono strutture adeguate a questi ragazzi, insieme ad altri, naturalmente, ragazzi con sindrome di Down, ad altri con soggetti con altre patologie mentali, appunto. Quali sono, però, la pallacanestro che cosa dà in più rispetto magari ad altre attività? Ma la pallacanestro è già un gioco con la palla e dà la partecipazione, il divertimento, la palla è divertimento, ma oltre a quello è una miscela di azioni che compiono attraverso la palla. Il seguire l'allenatore nei suoi esercizi di cambio mano, del tiro a canestro, ma del tiro a canestro fatto con tiro a parabola, anche loro riescono a realizzare questo, ad alzare lo sguardo al cielo, insomma, a giocare di squadra, a palleggiare con entrambi le mani, ad avere un controllo maggiore della palla e dei loro movimenti. Insomma, lo state vedendo alle nostre spalle dalle immagini che vi stiamo mostrando, tra pochissimo vi forniremo una testimonianza diretta dei benefici della palla a canestro su questi ragazzi. Intanto Alessandra ti restituisco la linea. Grazie Barbara, noi ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria e torniamo tra poco con altre notizie. Restate con noi. Eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale e allora la rassegna stampa oggi dedicata a Repubblica Bari ci colleghiamo subito con il capo redattore Domenico Castellaneta che saluto buonasera e benvenuto Domenico. Buonasera, grazie. Domani il debutto della nuova Repubblica Bari di tutto il giornale ovviamente con particolare riferimento visto che siamo qui anche dell'edizione locale che cosa cambierà? Beh, un po' tutto anzi senza un po' cambia tutto è una rivoluzione che in questi casi si definisce epocale ma è una rivoluzione nel vero senso della parola perché cambia innanzitutto la grafica cambia il carattere è stato studiato un nuovo carattere dallo studio inglese che ha rinnovato il Guardian nel New York Times e cambia naturalmente non il formato ma cambia l'articolazione la struttura delle pagine che sarà molto più agile e snella il senso di questo cambiamento è ben presto detto nel senso che i siti internet ormai danno tutto danno tutte le notizie e coprono soprattutto quello di Repubblica ormai è diventato uno dei siti più importanti del mondo e quello di Bari uno dei siti più importanti più diffusi in Italia e quindi il giornale deve dare una gerarchia non può dare tutte le notizie ma deve dare le notizie che ritiene che debbano essere approfondite analizzate dai lettori che poi sono coloro che vogliono orientarsi vogliono avere una bussola per orientarsi nella vita cittadina nazionale e internazionale Qualche anticipazione su cosa leggeremo nell'edizione di domani al suo esordio? Noi abbiamo un'inchiesta sull'acqua nel senso che in città c'è un grosso problema di approvvigionamento dell'acqua ci sono interi condomini che oggi sono senza acqua per problemi non necessariamente legati all'acquedotto ma sicuramente determinati dalla riduzione della pressione dell'acqua e anche e soprattutto per problemi per così dire condominali abbiamo approfondito questo aspetto anche giuridico e abbiamo scoperto alcune situazioni molto molto interessanti con centinaia e centinaia di casi che oggi sono all'attenzione anche della magistratura E allora non mi resta che augurarvi un grande in bocca al lupo ma sicuramente andrà bene grazie al caporedattore di Repubblica Bari Domenico Castellaneta Siete molto gentili grazie molte e un buon lavoro a voi grazie buon lavoro noi invece andiamo avanti andiamo avanti con un'intervista che vi proponiamo a Giuseppe Costanza anzi facciamo così marcia indietro andiamo subito al nostro live ci colleghiamo ancora una volta dal Paralaporgia con Barbara Cirillo per un canestro contro le disabilità l'abbiamo definita così l'iniziativa dedicata appunto ai disabili iniziativa organizzata dall'H Bari 2003 Basket in carrozzina torno da te Barbara e sono in compagnia di una delle mamme di questi ragazzi Belinda Rago buonasera innanzitutto grazie per la sua testimonianza so immagino anzi che non sia non sia facile parlare di questi temi ma è bene è fondamentale secondo me farlo a me fa piacere sinceramente poter testimoniare in qualità di genitore la bontà di queste attività sportive che fanno bene ai nostri figli sia dal punto di vista fisico perché ne traggono un giovamento in quanto possono calmare la loro iperattività o anche in caso di bambini che hanno che soffrono di epilessia ad esempio è consigliata proprio dalla ricerca scientifica l'attività fisica per poter calmare queste crisi epilettiche signora suo figlio ha 12 anni è il primo anno che partecipa a questa iniziativa oppure no? è il secondo anno che mio figlio viene qua noi abbiamo tratto grande giovamento la cosa di cui mi duele è che non esiste una rete di istituzioni che informi le famiglie circa le attività che esistono per loro io sono venuta a conoscenza di questa associazione attraverso il passaparola degli altri genitori e devo dire che mi fa molto piacere avere scoperto questo grande gruppo che è molto empatico con i ragazzi che ci mette il cuore c'è tanto lavoro dietro e grazie anche al coraggio del nostro presidente che combatte sempre per noi tante battaglie sicuramente sì è bello sentire queste parole suo figlio ha avuto dei giovamenti l'ha visto cambiato sotto certi aspetti sì perché apprendono innanzitutto la disciplina in modo naturale non vengono forzati si interessano all'attività sportiva si guardano intorno hanno la possibilità di socializzare che in altri contesti non è facile trovare queste possibilità sicuramente sì anzi mio figlio è migliorato più qui in questa circostanza con diciamo una spesa minima da parte della famiglia rispetto ad altre attività riabilitative costosissime tiri a canestro anche a casa ha convolto anche lei io no sono una schiappa sinceramente è molto meglio mio figlio sicuramente sì grazie mille per le sue parole e per la sua testimonianza in bocca al lupo grazie ancora per essere stata qui con grazie grazie a voi buonasera Alessandra ti restituisco la linea a tra poco grazie Barbara adesso invece vi proponiamo l'intervista a Giuseppe Costanza uno dei superstiti della strage di Capaci è stato qui nei giorni scorsi in occasione della presentazione del libro stato di abbandono scritto da Riccardo Tessarini una riflessione sul ruolo che i superstiti di queste stragi hanno non sono né carne né pesce ha detto il giornalista nell'intervista per illustrare le finalità di questo libro molto spesso le persone che sono cadute per mano della mafia si erigono monumenti ci sono giornate della memoria restano invece queste persone un po' relegate all'obbligo allora andiamo a sentire la sua testimonianza ricordi anche di Falcone stato di abbandono è così che si è sentito per tanti anni in effetti sì sono trascorsi 23 anni di gridare di denunziare muro di gomma fino a quando un funzionario del MIUR il direttore generale dottoressa Giovanna Boda mi ha invitato al ministero a Roma ha voluto ascoltare la mia storia dopo di ciò mi ha introdotto nell'ambito scolastico e quindi giro l'Italia in lungo e in largo raccontando questa storia nelle scuole e con molta attenzione e molta proficua attenzione da parte dei ragazzi e vedo che c'è un'attenzione particolare perché vengono a conoscenza di cose per loro sconosciute io intanto lo dico a chiara lettere si dice che sono l'unico sopravvissuto ma non è vero ce ne sono altri tre che erano nella macchina che ci coprivano le spalle e anche questi erano capaci però non se ne parla nemmeno come non si parlava di me addirittura c'è gente che dice ma perché è rimasto qualcuno in vita sì ce ne siamo tre che siamo arrivati in vita solo che chissà per quale arcano motivo ci hanno emarginato almeno da parte mia non sono stato mai invitato nelle varie commemorazioni e ritengo che i nostri rappresentanti politici prima di salire sul palco e fare passerella avrebbero dovuto quanto meno dire ma dove sono i sopravvissuti invece in Italia bisogna morire allora se muori c'è qualcuno che si riempie la bocca mi dispiace dire questo ma perché in Italia bisogna soltanto morire non bisogna essere riconosciuto per per il contributo di sangue che uno ha dato e per l'impegno quotidiano io avevo una famiglia con ragazzini piccoli e ogni giorno poteva essere l'ultima e invece chissà perché mettono personaggi che a Capaci non ci sono mai stati che non hanno mai rischiato la propria vita accanto a Falcone e questa è l'Italia ma oggi come vede il tempo è galantono come vede chi vive di luce riflessa prima o poi come dicono in Sicilia si astuta si spegne Lea Capaci c'era che ricordi ha di quei momenti ma io di quei momenti non ricordo propriamente niente perché la mente si rifiuta di di far ricordare quello che è successo però la notte si vive un incubo che non si riesce a individuare che cosa è però mi sveglio solo assalto sudato quindi nel mio subincoscio qualcosa lo rivivo ma la mente si rifiuta di farlo rivivere e quindi del mio non mi ricordo completamente mentre ricordo perfettamente quella di Paolo Borsellino il 19 luglio del 92 così come ricordo Rocco Chinnici il 1983 in via Pepitone Federico ecco queste sono le stragi che io ricordo perfettamente la mia è come se non l'avesse vissuto anche se ero lì e fortunatamente ero lì perché se non ero lì avrebbero trovato la talpa chissà quante avvocate avrei dovuto contattare per riconquistare il mio onore perché sarei stato sbianderato da tutte le parti a dire è la talpa che ricordo ha invece del giudice Falcone il giudice Falcone come magistrato è un motore trainante una persona che non si fermava mai pensava che si portava il lavoro a casa e io ne sono cosciente perché lo andavo a trovare a casa lo vedevo ancora in vestaglia assieme a sua moglie e la moglie Francesca Morvillo lo collaborava moltissimo una persona eccezionale poi se vogliamo parlare dell'uomo Giovanni Falcone è un'altra cosa perché Giovanni Falcone è un magistrato ma è un uomo e quindi un rapporto di fiducia che avevamo ecco questo è quello che io mi sento di dire se dovesse trovare un aggettivo per descrivere l'uomo Falcone più che il giudice guardi tanto per dirgliene una così per sdrammatizzare un giorno camminavamo io guidavo e dalla tasca mi caddero delle monetine e lui raccogliendole mi fa tutto quello che è in questa macchina è mio se le è prese dal vero un'ultima domanda poi la lascio andare lei mi ha detto che gira l'Italia per le scuole per raccontare la sua storia per raccontare quegli anni si trova in questo il senso di quella che forse oggi è una sopravvivenza ma questo mi dà tanta carica è un bagno di ristoro perché i ragazzi vedo che sono molto attenti e che spero io in loro perché loro sono il nostro futuro e siccome io ho dei ragazzi familiari spero in loro perché noi non vogliamo scappare dall'Italia devono scappare gli altri noi dobbiamo rimanere e allora adesso ci fermiamo breve pausa pubblicitaria e tramo tra poco con altre notizie restate con noi grazie a tutti offese sessiste decaro denuncia depositato oggi un atto formale per individuale il responsabile dell'oltraggio alla consigliera Melini a tutto il consiglio comunale la procura è a secco negli uffici l'acqua manca da due giorni il procuratore Volpi ha scritto alla prefettura per chiedere un servizio temporaneo con cisterne e forse un guasto all'impianto idrico terapia per la sanità malata lunghe liste d'attesa viaggi della speranza e conti che non tornano sotto accusa nell'audizione con il governatore Emiliano ne parliamo nel nostro focus un canestro contro le disabilità il nostro live dal pala alla forgia per l'iniziativa organizzata dall'associazione basket in carrozzina a Cabari 2003 riccoci ancora qui in diretta allora ripartiamo dalle offese sessiste in consiglio comunale il sindaco De Caro oggi ha presentato una denuncia in procura intanto oggi si è consumato un cambio di rotta all'interno di Palazzo di Città che ha creato non poco caos ieri solo ieri l'annuncio di volersi sottoporre volontariamente alla perizia grafica per individuare i responsabili oggi invece un cambio di rotta negli uffici di Palazzo di Città guardiamo stampa viene convocata per assistere al sorteggio di un esperto in perizie grafiche ma assiste all'annuncio di un cambio di volontà preso atto della denuncia formalizzata in procura dalla consigliera Melini attendiamo che sia la magistratura a mettere fine a questa incresciosa storia individuando il responsabile dell'insulto sessista vale tutto il contrario di tutto a Palazzo di Città che ancora una volta offre di sé un'immagine poco edificante maggioranza contro maggioranza opposizione contro opposizione persino quando l'invito alla conferenza stampa arriva a nome di tutti subito dopo l'annuncio della rinuncia alla perizia calligrafica cui consiglieri si sarebbero dovuti sottoporre volontariamente per accelerare i tempi il caos da una parte il caprogruppo PD Marco Bronzini dichiara che non parlerà più dell'argomento se non in presenza di un magistrato dall'altra Francesco Giannuzzi De Caro Sindaco prepara bigliettini di fortuna per procedere comunque al sorteggio stessa spaccatura nelle opposizioni Michele Piccaro e Fabio Romito da una parte propendono per la scelta di un esperto dall'altra il Movimento 5 Stelle si affida ai giudici e mentre metà dei presenti esce dalla sala in preda all'ira per l'evidente spaccatura i pochi rimasti procedono comunque all'estrazione spetta ad una giornalista tirare a sorte il perito è scelto tra i nomi indicati nell'elenco dei CTU ma la domanda a questo punto è che Valenza ha questa scelta se in pochissimi viene aderito e perché ieri è stata mandata una nota a nome di tutti i consiglieri se in tanti evidentemente erano contrari è vero che è uno solo colui che o colei che ha commesso questo illecito ma mi sembra che tutti quanti siamo tutti sempre molto solidali tutti quanti pronti a stare con il suo nominativo poi alla fine sono rimasti in tre forse a stare il nominativo e fra quei tre c'è anche chi stamattina o un attimo prima aveva cambiato idea non voleva stare il nominativo insomma penso che i baresi stiano vedendo in queste ultime ore giornate una pagina veramente triste dell'amministrazione comunale cambiamo argomento il paragiustizia di Bari che ospita gli uffici e le aule del tribunale della procura di Bari è a secco da due giorni per cause tuttora in corso di accertamento da venerdì scorso rubinetti e scarichi funzionano ad intermittenza ma da ieri l'acqua manca del tutto il procuratore Giuseppe Volpi ha scritto alla prefettura chiedendo che il servizio venga temporaneamente garantito da autocisterne le quali tuttavia ancora non sono arrivate in via Nazarianz dalla Quedotto Pugliese fanno sapere che a seguito della segnalazione è stato fatto in mattinata un sopralluogo che ha accertato la regolare erogazione di acqua al contatore che serve il palazzo secondo i tecnici quindi il guasto riguarda il tratto che collega il contatore all'impianto idrico del palagiustizia oppure lo stesso sistema idrico interno i quattro piani della procura del tribunale penale sono mediamente frequentati ogni giorno da circa 2000 persone fra magistrati avvocati cancellieri e utenti che da almeno 48 ore non possono usufruire dei servizi genici Telebari denuncia e il comune interviene sono state ripristinate le recensioni e rimossi tondini sporgenti che mettevano a rischio l'incolumità dei passanti in via all'Europa dopo la diretta di questa mattina del nostro B&G dedicato al quartiere San Paolo è stato infatti messo in sicurezza il cantiere dove sorgerà un parcheggio da 20 posti con annessa aria verde giustrine l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso ha dato seguito alla segnalazione dei cittadini intervenuti nella diretta c'è poco da indugiare sulla sicurezza degli spazi pubblici soprattutto quando ci sono dei lavori in corso ha affermato in trasmissione e disporremo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi del cantiere e infatti l'intervento è giunto puntuale adesso si attende il completamento dell'opera i cui lavori sono stati sospesi per una variazione al progetto originario gli operai dovrebbero tornare a lavoro dal mese di dicembre con consegna prevista entro febbraio 2018 questo pomeriggio nella ramagna Aldomoro della facoltà di giurisprudenza si è parlato di pensioni e riforme previdenziali ospite dell'evento organizzato dall'associazione universo studenti d'economista ed ex ministro del lavoro Elsa Fornero guardiamo Elsa Fornero questo pomeriggio ospite dell'università degli studi di Bari all'indomani del tavolo di confronto tra governo e sindacati sullo scottante tema delle pensioni l'ex ministro traccia per la platea degli studenti una riflessione circa l'ultima proposta di governo sul sistema pensionistico mi sembra che adesso la discussione tra governo e parti sociali si sia molto intrisa di elementi politici e la vicinanza delle elezioni rende tutto più complicato è chiaro mi pare almeno da parte di qualche sindacato l'uso politico della trattativa spero che il governo abbia la capacità e mi sembra di vedere le premesse di mettere dei punti fermi perché è in ballo esattamente il futuro dei nostri giovani torna a parlare delle sue scelte passate l'ex ministro e tenta un autoesame sulla sua contestatissima vecchia riforma il frutto dice di una situazione di emergenza alla quale serviva una risposta immediata per quanto mi si possa accusare di tante cose non sono responsabile di tutto la nostra scelta era stata di tenere un articolo 18 a difendere il lavoratore contro certi possibili licenziamenti che senza arrivare veramente alla discriminazione sono però non motivati dal punto di vista né disciplinare né economico non è facile realizzare una riforma in calza il problema delle riforme come realizzarle per far contenti tutti ora però è importante comprendere che le riforme sono come un investimento bisogna rinunciare a qualcosa oggi per avere qualcosa in più domani conclude tanti giovani però sembrano averlo perso quel domani il treno per il futuro corre ma a tanti ragazzi manca il biglietto con loro solo un bagaglio pesante fatto di dubbi e incertezze parliamo di sanità guardie mediche pediatriche per curare i piccoli pazienti anche nei fine settimana e la richiesta lanciata tramite una petizione online da un'associazione di mamme un servizio per la verità già esistente ma non ancora entrato in funzione sentiamo quasi 5000 firme raccolte in poche ore una petizione online per avere una guardia medica pediatrica gratuita H24 a lanciare la proposta e l'associazione come nasce una mamma che succede quando i nostri bambini si ammalano il weekend o durante le festività scrive la responsabile Benedetta Mafia sul portale change.org il primo tentativo è quello di chiamare il proprio pediatra che purtroppo il più delle volte non è reperibile poi si prova con la guardia medica che però non è pediatrica e spesso alza le mani quando si trova a dover prescrivere farmaci a un bambino o addirittura a un neonato non resta che portare il bimbo al pronto soccorso o ad un pediatra a pagamento con tutte le conseguenze che questo comporta eppure lo scorso febbraio una soluzione quantomeno parziale era stata trovata con l'istituzione del servizio SCAP per tutte le ASL pugliesi un ambulatorio pediatrico da ubicare nei pressi dei pronto soccorso per i codici verdi e bianchi dei più piccoli attivo per 12 ore nei giorni festivi e prefestivi una soluzione peraltro già testata con risultati straordinari nella BAT peccato che ad oggi solo Brindisi abbia provveduto all'attivazione oltre alla SCAP già operativa dell'ASL di Barletta Andrea Trani l'ASL di Bari ha già individuato i medici tra i pediatri di libera scelta per portare avanti il servizio e ha di recente fissato come date il primo dicembre l'impressione però è che dopo i numerosi rinvii già avvenuti dopo dieci mesi ci sarà ancora da aspettare e allora ultimo collegamento in diretta da Parara Forgia dove c'è per noi Barbara Cirillo parliamo dell'iniziativa dell'HBari 2003 destinato ai ragazzi con disabilità Barbara torno a te se Alessandra chiacchierando a telecamere spente c'è un altro punto che secondo me deve venire un po' alla luce che è la questione dell'assistenza immediata perché ci sono dei ragazzi che possono avere anche ci sono ragazzi che soffrono di epilessia possono avere delle crisi o altri problemi durante proprio queste attività però Gianni c'è un'assistenza immediata? No noi abbiamo i tecnici che sono tutti formati nel rapporto sportivo sulla disabilità oltre a questo ci sono anche operatori sanitari all'interno del gruppo e pertanto è immediato il loro intervento la loro tempestiva appunto intervento Allora abbiamo avuto evidentemente qualche problema con il collegamento non appena saremo in grado ve lo riproporremo andiamo avanti con l'inchiesta appalti nella sanità corruzione prescritta per Tarantini il tribunale di Bari ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati di corruzione concussione e turbativa d'asta contestati i fratelli Giampaolo e Claudio Tarantini e l'ex primario di neurochirurgia del Policlinico di Bari Pasqualino Ciappetta relativi alle presunte gare truccate per forniture di attrezzature chirurgiche fra il 2006 e il 2009 i giudici hanno condannato il medico a un anno e sei mesi di reclusione per l'unico reato non ancora prescritto la presunta truffa ai danni del Policlinico nonostante avesse un contratto in esclusiva con l'azienda ospedaliera Barese Ciappetta operava infatti nei fine settimana nella clinica Villa del Rosario a Roma per questo i giudici hanno disposto anche il sequestro di circa 70 mila euro pari all'ingiusto profitto e hanno condannato Ciappetta al risarcimento danni nei confronti delle parti civili costituite Policlinico Università degli Studi di Bari e Regione Puglia oggi Ciappetta ha ottenuto la pena sospesa a condizione che risarcisca i danni entro sei mesi dal passaggio giudicato della sentenza direttori generali amministrativi e sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale non subiranno la decurtazione del 10% dei compensi già decisa per tutti gli altri direttori generali lo ha deciso a maggioranza il consiglio regionale che ha approvato l'aderoga alla riduzione dei compensi contro ha votato il Movimento 5 Stelle che già in fase di commissione giudicò gravissima la proposta invitando il centro-destra e il centro-sinistra da un lato a recedere e dall'altro a spiegare ai pugliesi che si chiudono ospedali e si tagliano posti letto in nome del contenimento della spesa mentre si trovano risorse per aumentare lo stipendio dei direttori generali delle altre su 22 milioni di spesa dei ricoveri per malattie rare oltre 7 milioni di euro finiscono fuori regione lo stesso dicasi per le prestazioni specialistiche con 1,3 milioni di euro su 9 e il dato allarmante che emerge dal report redatto da Crea Sanità per la regione Puglia e Ares sono 18 gli ospedali della rete regionale pugliese che appartengono alla rete per la cura delle malattie rare 6 fanno parte anche di quella nazionale nel 2016 in questo settore in Puglia sono stati spesi in totale 91 milioni di euro anche il Movimento 5 Stelle aderisce alla giornata dell'albero il senatore Lello Ciampolillo accompagnato da un gruppo di attivisti ha piantato un arbusto all'interno di Parco 2 Giugno guardiamo Senatore Lello Ciampolillo nella giornata dedicata agli alberi anche il Movimento 5 Stelle vuole dare un segnale sì il Movimento 5 Stelle aderisce in pieno all'iniziativa della manifestazione per gli alberi con alberi per la vita negli anni precedenti con un'iniziativa che partiva da Gianroberto Casaleggio erano stati già piantati 4 mila alberi in questi giorni domenica abbiamo cominciato a piantare i primi alberi oggi anche a Bari nel Parco 2 Giugno e in tutta Italia più di 5 mila volontari stanno piantando ulteriori 23 mila 580 alberi per un totale di circa 27 mila alberi oggi qui pianteremo a largo 2 giugno nel Parco un albero di roverella abbiamo pensato anche di dare un nome a quest'albero e proprio perché è una roverella abbiamo pensato di chiamarla vita noi ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di piantare quest'albero stanno arrivando al nostro blog di Beppe Grillo centinaia di foto da tutta Italia è un'iniziativa che serve a sensibilizzare e a ricordare a tutti che la vita della specie umana dipende dalle piante e in particolare dagli alberi che ci danno l'ossigeno che ci serve per vivere Bene ci fermiamo breve pausa pubblicitaria e torniamo tra poco restate con noi Reccoci ancora qui per il nostro focus oggi ci occupiamo di disturbi e del sonno lo facciamo con il dottor Pasquale Saponaro è specialista in medicina del sonno insomma dei disturbi del sonno principalmente buonasera e benvenuto buonasera a lei perché il sonno in questo momento rappresenta forse il lusso che la grande maggioranza degli italiani non possono permettersi per patologie però anche per i ritmi troppo stressanti della nostra vita moderna proprio così oggi poter concedersi il lusso di più ore di sonno sta diventando una vera e propria realtà secondo il professor Walker della Università di Berkeley si parla oggi di un'epidemia dell'insonnia perché sempre meno ore le trascorriamo dormendo i nostri ritmi di vita ormai divenuti frenetici stanno creando la necessità di poter non più trascorrere del tempo a letto dormendo e quindi ci espongono al rischio dell'insonnia un problema che sta coinvolgendo soprattutto anche la fascia di età una fascia di età sempre minore tant'è vero che oggi sta affiorando il problema dell'insonnia infantile oggi ci sarà un focus organizzato dall'associazione del vaso di Pandora si parlerà di insonnia russamento e apne notturne è vero che ci sono delle patologie che possono essere in qualche modo correlate tra di loro però partiamo proprio dall'insonnia che sembra essere ormai purtroppo un problema per la grande maggioranza della popolazione che ovviamente inibisce il benessere psicofisico si parla di insonnia come dire breve ma anche di insonnia di lunga durata esatto sì certo per noi medici il tentativo dal punto di vista terapeutico è quello di rendere l'insonnia il più possibile di breve durata per evitarne una cronicizzazione teniamo presente che si parla di insonnia cronica quando il sintomo insonnia persiste per più di un mese e quindi le nostre terapie devono mirare soprattutto a realizzare due cose da un lato come dicevo prima una mancata conicizzazione della malattia dall'altro l'utilizzare delle terapie che evitino una dipendenza del paziente dai farmaci stessi in effetti i farmaci più utilizzati lo sappiamo tutti sono soprattutto le benzodiazepine farmaci che hanno una sicura efficacia terapeutica ma che purtroppo a volte abusati sia dalla classe medica ma soprattutto dai pazienti tendono a dare dei fenomeni di dipendenza ecco che stiamo cercando come classe medica di virare come terapia su altri tipi di farmaci le cosiddette Z-drugs su farmaci che possono avere una origine naturale quali passiflora escolzia biancospino ovviamente da utilizzare nelle forme di insonnia più lieve oppure utilizzare off-label dei farmaci che sono gli antidepressivi che sfruttando andando a trattare una delle cause principali dell'insonnia cioè meccanismi ansioso depressivi riesce ad eliminare la sintomatologia appunto insonne dicevamo che l'insonnia affligge ormai purtroppo un sempre più crescente numero di cittadini dovuti probabilmente anche alla concitazione della vita quotidiana che viviamo però probabilmente anche all'uso di dispositivi tecnologici come ci si accorge di essere come dire affetti da questo tipo di patologia diciamo che esistono dal punto di vista della sintomatologia due tipi di insonnie se così possiamo dire un'insonnia che è legata ad una difficoltà all'addormentamento che di solito riconosce delle cause basate su ansia su fenomeni depressivi e invece un'insonnia che ha un'origine che si manifesta con un risveglio precoce durante la notte o nelle prime ore del mattino Qual è la categoria di persone più esposte a questo tipo di patologia? Sicuramente la categoria delle persone più esposte sono ovviamente i lavoratori turnisti cioè coloro che per motivi di lavoro spesso sono costretti a lavorare durante le ore notturne perché in questo tipo di pazienti si altera quello che è il ritmo sonno-veglia e quindi questa situazione favorisce la possibile insorgenza della difficoltà ovviamente all'addormentamento le donne sono sicuramente come genere le persone più colpite e ovviamente anche gli anziani in questo senso bisogna dire come l'insorgere dell'insonnia o comunque il disturbo del sonno può divenire uno come dire una 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 specie di marcatore del possibile insoge di patologie di tipo neurodegenerativo quali il morbo di alzheimer infatti spesso i colleghi neurologi sono molto attenti a verificare questo sintomo in situazioni particolari perché rappresenta un elemento di discriminazione e di possibile riconoscimento preclinico dell'insorgere di questa patologia così severe e così invalidante Dottor Supanaro apriamo un altro capitolo su un altro disturbo del sonno che è il russamento insomma quello è una patologia invalidante non soltanto immagino per chi la subisca e per chi ne affetto però anche tutti gli effetti collaterali immaginiamo a persone che ovviamente non riescono a dormire perché c'è il rumore fastidioso di chi sta accanto certo indubbiamente la maggior parte dei pazienti che si rivolgono ai centri di medicina del sonno a volte sono stimolati dai partner perché determinano con il loro russamento un'alterazione di quella che è la vita di relazione della vita di coppia purtroppo il russamento nella storia è stato visto come un fenomeno diciamo se non fisiologico o parafisiologico anche per i nostri genitori forse il russare non viene considerato come qualcosa di negativo in realtà si è visto come il russamento può essere sintomi di patologie particolarmente gravi quali è la sinuola delle aprile notturne con il suo acronimo è OSAS perché questa manifestazione sintomatologica si accompagna a fenomeni appunto di apnoici di arresto del respiro che può arrivare addirittura al minuto minuto e mezzo lo vedremo durante questa conferenza con un video in cui le manifestazioni cliniche sono una ridotta saturazione dell'ossigeno nel sangue si arriva a valori addirittura del 60% di saturazione teniamo presente che di solito valori al di sotto del 90% richiederebbero l'ospedalizzazione del paziente e un aumento particolarmente importante della frequenza cardiaca e questa patologia per la strada ha tante altre patologie conseguenti per esempio il discorso della ipertensione molte forme di ipertensione non controllata questo capita nella mia pratica clinica ma penso che capiti a tutti i miei colleghi di medicina generale assistiamo alla necessità di dover utilizzare o più farmaci o delle molecole che sono composte da più molecole a loro volta che però non riescono a controllare la sintomatologia e questo forse è causato appunto dall'elemento disturbante della sindrome delle aprile notturne che attraverso un meccanismo di tipo metabolico provoca un incremento della produzione di catecolamine e quindi l'insorge di patologie di natura cardiovascolare o cerebrovascolare che a volte vengono ad insorgere e di cui non si conosce la causa perché non si è trattata l'OSAS alla sua che sottostà a queste patologie praticamente Dottor Saponaro abbiamo capito che in qualche modo russamento e apnee notturne sono correlate ma sono sempre correlate oppure ci possono essere anche solo episodi di apnee notturne in quel caso come facciamo a individuarle? Ovviamente per la diagnosi diventa l'esame come diciamo con i medici il gold standard è rappresentato dalla quindi dalla polisonografia la polisonografia è un esame di tipo assolutamente non invasivo in cui il paziente viene monitorato soprattutto dal punto di vista cardiorespiratorio e questo esame può essere eseguito o in strutture ospedaliere in cui ha una valenza maggiore oppure anche a domicilio del paziente e questo ci permette di vedere quante apnee il paziente ha durante un'ora di sonno si parla di indice AHI questo numero di apnee non deve superare per non avere valore diciamo di gravità le 25 apnee un valore di AHI superiore a 25 può parlare di OSAS grave se invece i valori sono al di sotto di 25 possiamo riconoscere una forma lieve una forma media e questo è importante questa classificazione questa distinzione perché permette un diverso indirizzo di tipo terapeutico sempre ritornando al discorso del gold standard per la terapia dell'OSAS il principale presidio terapeutico è rappresentato dalla CPAP cioè da quei ventilatori che permettono di far penetrare l'aria in una situazione di ostruzione qual è quella che si ritrova nel corso dell'OSAS dell'ostruzione delle vie aeree ma nelle forme di medio lieve gravità oramai ci sono sempre più lavori scientifici che dimostrano come l'utilizzo di MAD cioè di avanzatori mandibolari permette di avere dei risultati uguali alla CPAP il problema della CPAP è quella della difficoltà di poter raggiungere dei risultati ottimali perché c'è una scarsa compliance da parte dei pazienti una scarsa adattabilità dei pazienti all'utilizzo di questo presidio terapeutico che porta loro stessi ad abbandonare la terapia e quindi ad avere dei problemi di mancata risoluzione del problema clinico per chiudere allora se vogliamo essere in buona salute e garantire il nostro benessere psicofisico almeno otto ore di sonno a notte almeno otto ore di sonno a notte come dice il professor Walker nel suo libro Wise Sleep è una specie di elizio di lunga vita ci permette di non avere una serie di patologie ci permette di restare in forma ci permette di restare in forma anche con il nostro equilibrio psicofisico quindi otto ore a notte è il minimo di ore di sonno da trascorrere allora ringraziamo il dottor Pasquale Saponauro specialista del sonno grazie per essere stato con noi grazie a voi per l'ospitalità e grazie a voi per averci seguito a questo punto buon sonno arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti